Il senatore Antonio Iannone, stamattina a Salerno, alla sede provinciale di Fratelli d'Italia, per fare un resoconto, un bilancio di quella che è stata la sua attività nel primo anno al Senato. Tante sono le iniziative che ho animato, oltre mille atti parlamentari in 365 giorni, tutti ispirati dal nostro credo politico e dalle esigenze più vere del nostro territorio. Impegno per quanto riguarda il settore della sanità, per quanto riguarda il ciclo rifiuti, per quanto riguarda la cultura della legalità, facendo parte anche della commissione bicamerale antimafia e soprattutto tante iniziative finalizzate ad infrastrutturare i nostri territori che segnano il passo da questo punto di vista e hanno un grave limite nel suo sviluppo proprio per questo. Il governo ha già tradito le sue attese di cambiamento con provvedimenti che sono molto uno spot ma che in realtà non vanno nella direzione dello sviluppo reale. Noi riteniamo che sia necessaria una forza che metta al centro questa impostazione e siamo convinti che la destra rappresenta, la destra vera, non quella occasionale e da spot, l'alternativa vera che può dare ai cittadini soddisfazione di cambiamento.